Dagli albori dei tempi, Pokemon è stato etichettato come un gioco infantile, ideato per un pubblico di bambini. Ma chi non conosce il brand non sa che, malgrado le apparenze, Pokemon nasconde all'interno di un mondo gioioso e pacifico, alcuni elementi che sono tutto meno che adatti ai bambini. All'apparenza un innocuo insetto si distingue dalla sua evoluzione per le dimensioni del fungo sulla sua schiena e per degli occhi vitrei privi di pupille. Se si trova solo in quinta posizione è perché, malgrado tutto, ciò che lo caratterizza avviene anche in natura. Infatti con l'evoluzione, il fungo parassita prende completamente il possesso dell'insetto stesso, uccidendolo letteralmente. In poche parole, si tratta di un cadavere posseduto. In natura, ciò avviene con le formiche, le quali sono le prede preferite per alcuni particolari funghi parassiti che ne prendono il controllo. Questo Pokémon è ispirato ad una figura folclorica giapponese, la Kitsune. Esattamente come questa creatura mitologica, Ninetales possiede nove code ed è in grado di vivere per oltre mille anni. Inoltre, è un Pokémon vendicativo che non esita a scagliare terrificanti maledizioni contro coloro che osano sfiorare una delle sue code. Come se non bastasse, è in grado di controllare la mente umana e comprende il linguaggio degli uomini. Alcuni sostengono che questo Pokémon fosse un umano in passato che provara ancora verso tutti quelli che non hanno perso la propria umanità e perciò non esita a scagliare contro questi ultimi sventure d'ogni genere. A differenza di tutti i Pokémon citati precedentemente, Gengar e Catena Evolutiva possiedono un aspetto che, perlomeno in prima generazione, era di certo poco rassicurante. Questo Pokémon maligno e meschino adora prendersi gioco delle sue vittime, fingendo di essere la loro ombra, prendendosi gioco del loro terrore e sottraendo lentamente ad esse tutta la vitalità di cui dispongono. Il suo arrivo è annunciato da un calo drastico delle temperature, esattamente come si dice accada con gli spettri. Spesso, a sali passanti, o talvolta, mi mando la loro ombra, li segue finché non avrà più forza vitale da sottrarre. La sua storia è di certo una delle più controverse di sempre. Questo Pokémon, abbandonato alla nascita dalla madre uccisa, ha indossato il teschio materno per potersi difendere, prendendo un suo osso per colpire i nemici. Si tratta di piccoli cuccioli di Kangaskhan che, evolvendosi, diventano un tutt'uno con la loro macabra armatura, formando una catena evolutiva a sé stante. Nessuno sa con certezza quale sia il suo aspetto reale che c'è là sotto il teschio, e molti sarebbero disposti a tutto per saperlo, ma soprattutto per ottenere quel teschio dal grande valore. Questi Pokémon e la loro catena evolutiva, già dannata dalla nascita, sono stati anche soggetti delle angherie del Team Rocket. Hypno. Cosa c'è di peggio di un Pokémon pedofilo in un gioco che attira maggiormente i bambini? La sua fama lo precede ed è ormai tristemente nota. Hypnotizzo bambini per poi portarli con sé nella sua caverna, dalla quale molto spesso non sono mai usciti. Spesso nei giochi Pokémon questi fatti vengono ben celati. Nel caso di Hypno, beh, non è proprio così. In Pokémon Rosso Fuoco, per proseguire nella trama sarà necessario salvare una bambina in un bosco di nome Lisetta. Ciò che dice la bambina stessa prima che Hypno appaia non lascia molto spazio ad interpretazioni. Queste parole, unite alle descrizioni che ci vengono fornite su di lui e al suo aspetto riconducibile ad un vecchio barbuto, non lasciano dubbi. In un gioco dedicato ai bambini, c'è qualcosa dalla quale i bambini dovrebbero stare alla larga. Ed ecco perché quest'ultimo è il Pokémon più inquietante di prima generazione. Grazie. Grazie. Grazie.